Benvenuti in un'altra puntata del TGLT4blog. La prossima notizia inizia così. Caorle. La magia del Natale a Caorle. Si parte il 7 dicembre. Grinch il grande protagonista. Sarà un villaggio di Natale più grande del solito, quello in arrivo a Caorle, per le imminenti festività. Da sabato 7 dicembre fino al 6 gennaio. Torna infatti il Caorle Christmas Time. Abbuttamento pronto ad accogliere, come ogni anno, centinaia di migliaia di ospiti sul litorale. Oltre 80 le casette che si distribuiranno lungo le vie cittadine, in un tragitto che rende il mercatino più lungo dell'Europa. A corredare il tutto, una mega ruota panoramica. Un percorso di luci, giochi per bambini e soprattutto l'arrivo di un nuovo ospite, il Grinch. Figura iconica, considerata una sorta di alter ego di Babbo Natale. Per gli amanti dell'enogastronomia, una delle vere novità è la nuova proposta che mira a valorizzare e presentare in una veste il pesce di Carle. Storia e tradizione si sposano in una magica ambientazione, considerata la nascita del villaggio dei pescatori. In piazza Sant'Antonio, un complesso di casoni tradizionali, offrirà il pescato fresco di Carle, abbinato ai vini locali. Con show cooking di ricette storiche per far rivivere i sapori autentici del territorio. Senza dimenticare, Foodland, la via dedicata al cibo di strada, è il villaggio di cioccolato. Angolo goloso per gli amanti del cioccolato in tutte le sue varietà. Ci sarà anche la casa di Babbo Natale, un'attrazione imperdibile per i più piccoli, in piazza Pio Decimo. Non mancherà la più grande pista di pattinaggio di sempre, che sarà aperta anche di notte, nella zona di salita dei fiori. Per gli amanti dell'arte, infatti, infine, le facciate storiche di Carle prenderanno vita con spettacolari proiezioni di videomapping. 20 opere di Caravaggio, Tiepolo, Botticelli e Leonardo animeranno la facciata esterna del Duomo in piazza Vescovado con una storia musicata dai giovani di Carle in collaborazione con le scuole musicali del territorio. Il titolo dell'opera sarà Maria Donna del Presente e apparirà le sere dalle 17 alle 21.40. La seguente notizia parla di Domenica 17 novembre 2024, presso lo stadio comunale P.G. Mecchia di Portogruaro, si è giocata la partita Portogruaro vs Adriese. Campionato nazionale di lettanti Serie D, Girone C. Quattordicesima giornata di andata Allenatori Demozzi Massimiliano del Portogruaro Vecchiato Roberto dell'Adriese Albito di partita Il signor Marco Ferrara Della sezione di Roma 2 Fischio d'inizio alle 14.30 Nel primo tempo le due squadre, anche se hanno creato varie occasioni di gol, lasciano inviolate le reti, sino alla fine. Infatti, il primo tempo termina 0-0, nella ripresa le squadre ripartono con carica e entusiasmo, mettendo in campo tutte le forze che in alcuni momenti hanno fatto sognare i rispettivi tifosi. Con valide azioni di messa in rete, ma la abilità dei portieri ha fatto concludere la partita 0-0. Con questa notizia il TG si conclude. Ringrazio voi ascoltatori. Vi aspetto alla prossima puntata del TGLT4Blog.